Buongiorno, benvenuti. Come si vede? Si accomodano, prego. Questo è un appello che abbiamo presentato, che è un grandissimo successo. Una fondazione qualificata. Una grande visione qualificata. Tanti giovani, ricercatori, c'è una chiavetta USB, siamo nella modernità, noi sono le 223.000 firme di le cittadine e i cittadini. Il mondo ha salvato. Il mondo ha salvato, esatto. Le ringrazio molto, complimenti. Signor Presidente della Repubblica, le ringrazio moltissimo per averci ricevuto alla presentazione di queste ormai 230.000 firme sull'ambiente e un appello a quello che sarà fatto, estremamente importante, che è stato scritto dai miei colleghi esperti in clima e sul quale io sono assolutamente d'accordo. Grazie. 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 Grazie.